Agosto 2023, Thailandia, isola di Koh Phangan. In una discarica vengono ritrovati alcuni resti del corpo di Edwin Arreta, un chirurgo colombiano fatto a pezzi. La famiglia aveva denunciato la scomparsa, la polizia tailandese indaga e arriva Daniel Sancho, un ragazzo spagnolo, figlio di un noto attore spagnolo, Rodolfo Sancho. Daniel viene arrestato, confessa di averlo fatto a pezzi ma non di averlo ucciso. La Spagna è sconvolta, partono inchieste e interviste, Rodolfo Sancho partecipa al documentario HBO e il caso Sancho per aggiungere dei dettagli. Il processo a Daniel si sta svolgendo in questi giorni, rischia l'ergastolo o la pena di morte e tutta la Spagna resta con il fiato sospeso. Oggi torniamo in Spagna, sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Scusate il disordine, il chat non è finito, non ho fatto in tempo a finirlo. Mancano i quadri dei gatti che li devo ancora riposizionare, manca lo sfondo, toglierò i mattoni e lo metterò di un altro colore. Oggi si è un po' così, un po' borderline ecco per il disordine. Comunque a grande richiesta oggi torniamo con un processo. Parliamo di Daniel Sancho, un ragazzo che si trovava in Thailandia per studiare da chef e viene coinvolto o perlomeno per come dicono le autorità thailandesi è l'autore di un omicidio brutale che adesso vediamo nel dettaglio. E questa vicenda ha sconvolto l'intero paese sia per la brutalità dei fatti accaduti sia di alcune cose che affronteremo in questo video che ho strutturato così. Vediamo prima appunto tutto il caso, cosa dice la polizia thailandese che poi è la linea accusatoria del processo, che cosa dice Daniel Sancho, quindi la linea difensiva. Poi vediamo anche che cosa ha detto il padre Rodolfo Sancho nell'intervista rilasciata a HBO perché HBO ha fatto un documentario, cioè sta facendo un documentario, adesso è uscito l'episodio 0 cioè quello che dice Rodolfo Sancho, il padre appunto del ragazzo, ma usciranno poi altri episodi perché il processo è in corso. Il processo è iniziato il 9 aprile e finirà il 3 maggio, quindi ci siamo e poi usciranno altri episodi immagino anche su quello che poi è stato e sarà insomma il processo che appunto come dicevo è ancora in corso e poi verso l'ultima parte del video vediamo alcune informazioni del processo perché il processo è a porte chiuse, però sono riuscita a reperire alcune informazioni importanti che possono anche smentire, che non confermano diciamo l'innocenza di Daniel Sancho ma non confermano neanche la teoria della polizia thailandese. Quindi adesso vediamo tutto dall'inizio, tutto da capo, andiamo per ordine e analizziamo la questione perché tutta la Spagna è con il fiato sospeso. Prima di cominciare parliamo di cose belle e salutiamo lo sponsor del video di oggi cioè Pumpling. Dunque Pumpling fa tantissime offerte tutte le settimane vi lascio sotto in descrizione l'offerta della settimana sul sito di Pumpling e con il codice sconto l'ora del tè riceverete un paio di calze o calzini in omaggio sul vostro ordine. Ora non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo. Dunque questo caso è, passatemi il termine, interessante nel senso che ha due narrazioni perché la Spagna si è concentrata prevalentemente sul kill, sul presunto, sul presunto assassino cioè Daniel Sancho, colui che è stato arrestato, messo in stato di arresto dalla polizia thailandese rischia o l'ergastolo o addirittura la pena di morte mentre dal lato della Colombia si parla ovviamente più della vittima perché la vittima in questione appunto è questo chirurgo Edwin Arreta che è stato ucciso, secondo la polizia thailandese è stato ucciso e poi fatto a pezzi quindi dalla parte della Colombia si dà già per assodato che Daniel Sancho sia colpevole e meriti di pagare mentre per la Spagna come vedremo tra poco c'è un, diciamo, c'è appunto un dibattito in corso e poi c'è questo terzo soggetto cioè la Thailandia perché la Thailandia, il ruolo della Thailandia in questo caso va al di là di quello che è il caso Sancho perché la Thailandia adesso è sotto gli occhi del mondo quindi è una sorta di banco di prova per la Thailandia per dimostrare che in realtà il suo è un paese sicuro e chi sbaglia viene punito quindi è una cosa che va anche al di là del caso perché adesso la Thailandia ha gli occhi puntati addosso quindi è un caso molto molto particolare molto duro, molto oscuro sotto certi punti di vista quindi come vi dicevo il processo è ancora in corso io sto registrando questo video in data 23 aprile voi lo vedrete la settimana prossima ma in questa settimana proprio che per voi sarà la settimana scorsa usciranno anche delle testimonianze chiave da come ho letto sui giornali per la colpevolezza di questo Daniel Sancho che non riporteremo in questo video farò poi una volta finito il processo che abbiamo tutte le informazioni alla mano farò un video sul processo e su quella che sarà o meno la condanna a Daniel Sancho bene, ripartiamo dalla ricostruzione del caso che ci è stata fornita da Cadena SER che è appunto un periodico, scusate un giornale spagnolo Daniel Sancho, figlio dell'attore Rodolfo Sancho si trova in Thailandia e lavora come chef il 2 agosto del 2023 Daniel Sancho viene arrestato dalla polizia tailandese con l'accusa di aver ucciso e fatto a pezzi il chirurgo colombiano Edwin Arrieta di 44 anni Daniel Sancho ha 29 anni secondo la ricostruzione della polizia tailandese l'omicidio sarebbe avvenuto sull'isola di Koh Phangan e sarebbe stato volontario e premeditato occhio perché qui chiaramente la versione della difesa differisce quindi per la polizia tailandese l'omicidio è stato volontario e premeditato una volta che la polizia tailandese ha terminato le indagini è arrivata a determinate conclusioni che poi sono le conclusioni che sono state riprese dalla linea accusatoria del processo e quindi dalla parte appunto che accusa Daniel Sancho la polizia tailandese dice questo quindi secondo quanto riportato da Onda Fero che è un altro giornale i fatti per la polizia tailandese sarebbero cominciati lunedì 31 luglio del 2023 quando Daniel Sancho arriva su quest'isola sull'isola di Koh Phangan in Thailandia il primo agosto del 2023 che era un martedì Daniel compra una sega coltelli, detergenti e altri utensili in un supermercato e da qui secondo la polizia tailandese viene la premeditazione perché Daniel Sancho ha comprato degli attrezzi un po' strani mercoledì 2 agosto Daniel va a prendere Edwin Arrieta con la sua moto passano delle ore insieme sull'isola perché c'era la festa della luna piena e poi verso sera tornano nel loro bungalow del resort Azalad Villa che era stato prenotato da Daniel Sancho nel bungalow numero 6 in quel bungalow quella notte viene commesso il presunto omicidio perché dico presunto oltre al fatto che non c'è ancora una condanna perché dall'altro lato Daniel Sancho la racconta in maniera diversa Daniel Sancho quando è stato arrestato confessa di aver compiuto sia l'omicidio sia lo smembramento del corpo ma nel momento in cui a dicembre del 2023 si è presentato all'udienza preliminare in cui doveva dichiararsi colpevole o non colpevole dei capi di accusa si è dichiarato non colpevole di omicidio premeditato perché sul momento secondo anche la difesa ovviamente di Daniel Sancho sono state fatte pressioni dalla polizia tailandese quindi si è spaventato e ha confessato tutto ma in realtà Daniel Sancho dice io non sono colpevole dell'omicidio io sono colpevole della parte relativa all'occultamento cioè lo squartamento il fatto di aver fatto il cadavere a pezzi e poi di averlo nascosto questo perché Daniel Sancho racconta che si trovavano nel bungalow a un certo punto Edwin inizia a provarci con lui inizia a voler gli fa capire che vuole diciamo qualcosa di più e con il rifiuto di Daniel Sancho inizia il tentativo da parte di Edwin di un'aggressione sessuale quindi entra una colluttazione perché Daniel cerca di difendersi in questa colluttazione Edwin cade e sbatte la testa contro il lavandino in quel momento Daniel dice lui è morto in quel momento io mi sono spaventato perché mi trovavo in un paese straniero so che in Thailandia c'è la pena di morte quindi io mi sono agitato avevo paura di essere arrestato ho avuto una sorta di episodio dissociativo il mio cervello mi ha detto che dovevo fare in modo di occultare il cadavere perché potevo finire nei guai perché nessuno mi avrebbe creduto così l'ho fatto a pezzi e poi ho buttato alcune parti nel mare infatti come si vedrà poi da alcune testimonianze lui quella stessa sera taglia il corpo mette alcune parti del corpo tra cui la testa in una busta e si dirige verso la spiaggia affitta un kayak da due ragazze va nel mare getta parti del corpo e altre parti del corpo sono state poi gettate con dei sacchetti di plastica nella discarica dell'isola e poi infatti la polizia ha trovato questi pezzi nella discarica quindi lui dice questo dice io non sono colpevole dell'omicidio l'omicidio è stato colposo con l'attenuante dell'autodifesa perché io mi stavo difendendo da un'aggressione quindi io non sono colpevole di omicidio ma solamente della parte che riguarda lo smembramento del corpo ma la polizia secondo le indagini anche fatte sull'autopsia del corpo dice un'altra cosa perché dice no no perché in realtà Edwin ha sì sbattuto la testa si vede perché hanno ritrovato la testa perché ovviamente vi ripeto il corpo è diviso in varie parti e si è visto che effettivamente la testa aveva un colpo dietro ma in quel momento Edwin non sarebbe morto in realtà era solo svenuto ed è morto nel momento in cui Daniel Sancio ha iniziato a tagliarlo a pezzi partendo dalla gola quindi in sostanza secondo la polizia tailandese questo Edwin questo chirurgo sarebbe morto in seguito a uno sbattamento perché ha iniziato come ha iniziato a tagliargli la testa scusate le immagini ma purtroppo in questo caso i dettagli sono fondamentali quindi secondo la polizia tailandese appunto l'omicidio sarebbe stato premeditato perché Daniel avrebbe comprato i giorni prima cioè il giorno prima questi coltelli la sega eccetera eccetera poi ha aggredito lui Edwin per ucciderlo ce l'ha fatta e appunto alla fine lo ha fatto a pezzi per occultare il corpo inoltre gli investigatori riferiscono che Sancio avrebbe impiegato tre ore per squartare Arrieta e un giorno per pulire la stanza e questa cosa è stata confermata dallo stesso Daniel ed è qui il punto focale di quella che vi dicevo essere la narrazione spagnola perché ci si è concentrato sul presunto assassino cioè Daniel Sancio proprio per quello che ha raccontato lui cioè il fatto che lui nel momento in cui si è trovato davanti a un cadavere morto in omicidio colposo ma giustificato dall'autodifesa perché questo Edwin da come dice Sancio ha sbattuto contro il lavandino la botta lo ha ucciso che cosa gli è scattato nel cervello per non chiamare le autorità e raccontare questa cosa ma per addirittura cercare di occultare il cadavere soprattutto con l'aggravante di averlo fatto a pezzi perché lui dice di aver avuto un episodio dissociativo ed è quello che si sta diciamo è quella la linea ecco della difesa proprio per giustificare poi l'occultamento del cadavere con l'aggravante dello smembramento io ho visto diversi diverse interviste a alcuni psicologi che chiaramente vanno in questi programmi perché il punto focale è quello cioè se crediamo che se riteniamo possibile mettiamola così se riteniamo possibile che una persona in una condizione di forte stress abbia un annebbiamento del processo decisionale faccia una cosa che può sembrare assurda e allora la versione di Sancio ci potrebbe stare se invece non è possibile una cosa del genere neanche nei più remoti casi e allora chiaramente la cosa non ci sta e si propende più verso la premeditazione come dice la polizia thailandese come viene poi raccontato anche in colombia perché appunto in colombia si parla diciamo si racconta tutto dalla parte della vittima quindi questo dottore questo chirurgo affermato membro onorario della società che viene trovato in thailandia morto e fatto a pezzi per quanto riguarda il processo dissociativo questo tipo di processo io chiaramente non ho le facoltà per parlarne e quindi ho visto alcune interviste di appunto di questi psicologi di questi criminologi chiaramente se c'è qualche psicologo criminologo psichiatra terapista quello che vi pare nei commenti scrivetemi sotto anche la vostra opinione io purtroppo non ho le facoltà per farmi un'opinione per poter dire no non è possibile sì è possibile lo trattiamo molto generalmente vi ripeto perché non ho le capacità però è per farvi capire che il fulcro della narrazione spagnola è proprio questo cioè è possibile arrivare a fare una cosa del genere cioè un ragazzo di buona famiglia che ha avuto sempre una vita tranquilla gli succede un incidente e decide di fare a pezzi un cadavere dunque c'erano questi esperti che parlavano questi psicologi e criminologi dicendo che effettivamente in condizioni di forte stress è possibile avere una sorta di dissociazione cioè il cervello a un certo punto non ragiona più secondo quelli che sono i canoni logici e anche sociali e trova delle soluzioni al problema alternative che obiettivamente in una situazione normale non starebbero né in cielo né in terra per intenderci ma quello che si chiedono anche gli psicologi è che questo fantomatico processo dissociativo è durato per diversi giorni cioè può succedere che una persona sotto un trauma ok questo sotto un trauma è iniziato a fare a pezzi questo a questo signore però quello che dico gli psicologi questo questo processo è durato per due giorni perché sono durate le tre ore in cui ci ha messo più o meno secondo quello che dice la polizia tailandese ci ha messo tre ore per fare a pezzi il colpo poi è andato ha avuto l'idea di occultare una parte nel mare una parte nella discarica poi ha pulito la stanza poi che cosa è successo che il giorno dopo la famiglia dalla Colombia la famiglia della vittima ha allertato le autorità perché lui non rispondeva questo Edwin non rispondeva perché era morto quindi nel momento in cui le autorità sono state allertate è stato ritrovato un pezzo credo del braccio se non mi sbaglio nella discarica quindi la polizia associato alle due cose si stava indagando nella ricerca di Edwin Daniel Sancho è andato dalla polizia a denunciare il suo amico scomparso proprio per cercare di depistare come se lui fosse un amico preoccupato quindi sono passati due giorni e quello che dico gli psicologi è possibile che questo processo dissociativo duri così tanto senza prima passare per un trauma cioè nel momento in cui poi ti rendi conto di quello che stai facendo devi entrare nel panico ed è qui che entra la teoria tailandese cioè la teoria tailandese suggerisce che e sostiene più che suggerisce sostiene che Daniel Sancho abbia dei tratti da psicopatico proprio perché lui è stato lucido e freddo in una situazione del genere cioè lui ha premeditato l'omicidio lo ha compiuto lo ha fatto a pezzi ha pensato a come occultare il cadavere in diverse parti poi nel momento in cui la polizia aveva iniziato ad indagare sulla scomparsa di Edwin è andato lui stesso dalla polizia a cercare di denunciare la scomparsa dell'amico per depistare queste sono tutte cose secondo la polizia che sono tratti da psicopatico dall'altro lato gli psicologi della trasmissione hanno analizzato anche questo punto dicendo i tratti da psicopatico non si riconoscono in una singola occasione ma bisognerebbe rianalizzare tutti gli episodi della vita di Daniel Sancho per capire se ci sono dei fattori e degli eventi che effettivamente possono portare a una diagnosi di psicopatia cosa che non può essere sostenuta basandoci solo su un singolo evento quindi capite che la cosa è molto complicata su questo punto di vista perché riporta tutto a una credibilità a livello psicologico quindi la Spagna è un po' così cioè le opinioni sono discostanti quindi infatti come è arrivata la polizia tailandese a Daniel Sancho perché appunto lui dopo che la polizia ha trovato il braccio ha unito il fatto che appunto la scomparsa di questo Edwin sia stata denunciata dalla famiglia Daniel va in centrale per cercare di depistare dice oddio voglio denunciare la scomparsa del mio amico purtroppo invece di depistare è stato considerato il primo sospettato proprio perché non solo avevano passato delle ore prima perché Daniel ha detto abbiamo passato del tempo fino a mezzanotte poi a mezzanotte è scomparso io non sapevo più niente lui era andato a raccontare questa versione ma la polizia tailandese ha visto dei tagli sul braccio di Daniel quindi lo hanno tenuto in stato di fermo lo hanno interrogato pesantemente alla fine lui ha ceduto inizialmente come vi dicevo prima confessando anche l'omicidio poi la linea della difesa ha detto no l'omicidio l'aveva confessato perché appunto era stata fatta pressione ma in realtà lui si dichiara colpevole solo per quanto riguarda l'occultamento del cadavere e lo smembramento vediamo un attimo il rapporto tra Daniel e Edwin non si sa molto del rapporto è rimasto molto nell'ombra secondo Daniel Edwin aveva promesso gli aveva promesso di fornirgli delle opportunità di investimento cioè apriamoci un ristorante insieme comunque Edwin facendo il chirurgo aveva dei soldi investiamo insieme ci apriamo un ristorante stellato ti faccio fare degli investimenti di qua per farti fare i soldi aveva giocato un po' sul fatto che Daniel essendo un ragazzo di 29 anni aveva questa voglia imprenditoriale quindi si è fatto secondo anche quanto dice Rodolfo il padre si è fatto un po' raggirare da questa cosa e alla fine in realtà questo Edwin era un truffaldino e Daniel dice l'unica cosa che in realtà voleva era adescarmi per avere poi una relazione con me quindi mi ha tenuto all'amo io abboccato con questa storia degli investimenti in realtà poi lui voleva intraprendere una relazione romantica si era ossessionato con me e nel bungalow ha cercato di avere un approccio e come l'ho rifiutato lui ha iniziato a minacciare me la mia famiglia e aggredirmi sessualmente io mi sono difeso e poi è successo tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso e infatti Daniel dice che Edwin gli ha fatto fare delle cose che lui non avrebbe mai immaginato fare quindi come se lui fosse o questo Daniel fosse soggiogato in realtà dalla figura di questo Edwin mentre per la polizia tailandese si tratta di passatemi il termine che io odio questo termine ma per intenderci di omicidio passionale quindi due avevano una storia poi è successo un qualcosa di gelosia un qualcosa che ha fatto scattare a livello emozionale Daniel che ha deciso poi di compiere l'omicidio e di ucciderlo quindi questo più o meno è il caso Rodolfo Sancho appunto che è un attore molto noto qui in Spagna il padre di questo Daniel ha parlato al documentario HBO nella puntata Zero poi come vi dicevo ce ne saranno altre che usciranno dopo la fine del processo ha raccontato che lui ha fatto questa intervista per i soldi perché sta cercando ovviamente di difendere suo figlio nel migliore dei modi ma avere un team di avvocati come si deve costa quindi lui si è sacrificato detto sono venuto qui per parlare però in realtà l'ho fatto solo per soldi racconta che quando ha ricevuto la notizia ovviamente è rimasto sconvolto ma è rimasto lucido quindi ha chiamato l'ambasciata poi ha organizzato questo team di avvocati per difendere il figlio è riuscito a parlare con il figlio è volato in Thailandia e con sua fortuna visto che Daniel Sancio non si trova in una di quelle prigioni che siamo abituati a vedere i thailandesi dove ci sono 40.000 persone stipate in una cella buttate in condizioni igieniche e dubbie ma che in realtà il carcere in cui si trova suo figlio è un carcere abbastanza tranquillo cioè appunto che ha sì è in cella con un po' più di persone rispetto a quelle a cui siamo abituati noi però è una prigione abbastanza tranquilla senza una grossa criminalità ognuno ha il suo letto dormono sui futon ma perché è una questione culturale quindi è l'equivalente del nostro letto quindi sostanzialmente su quello si è abbastanza tranquillizzato inoltre quando è stato arrestato Daniel aveva anche la disponibilità del cellulare infatti hanno fatto diverse chiamate adesso ha la possibilità di una videochiamata al mese quindi insomma su quel punto di vista si è diciamo nella tragedia rasserenato ecco ovviamente Rodolfo crede alla versione del figlio dice è probabile secondo lui come vi dicevo prima questo Edwin gli ha fatto una sorta di lavaggio del cervello per imbrogliarlo si è approfittato del fatto che lui volesse fare l'imprenditore e che Daniel volesse fare l'imprenditore quindi insomma alla fine è andato tutto in questo modo e sta cercando appunto di difendere suo figlio con questo ultra team di avvocati anche perché come vi dicevo prima è stato confermato poi anche nella conferenza stampa fatta dalla polizia tailandese la parte accusatoria ha chiesto o l'ergastolo la pena di morte quindi insomma la situazione è abbastanza grave il processo ormai è indirittura ad arrivo finirà il 3 maggio ma ho trovato alcune alcune notizie sull'articolo dell'international che è un altro periodico cioè giornale scusa giornale spagnolo in cui si parla di alcune cose che sono uscite durante il processo perché infatti la polizia tailandese durante la chiusura delle indagini quando si stava mettendo in piedi la causa aveva dichiarato di avere tutte le prove necessarie a dimostrare la premeditazione nell'omicidio quindi la ricevuta di acquisto di Daniel il fatto che poi lui sia andato in spiaggia abbia preso un kayak per andare immediatamente a buttare alcune parti del corpo in mare il fatto che dall'autopsia si veda che in realtà Edwin è morto sguzzato e non con il colpo al lavandino quindi tutte cose che portano verso la teoria appunto della premeditazione dell'omicidio ma in realtà da come ho letto sull'internazionale la cosa è rimasta dubbia perché dicono allora abbiamo questi due coltelli questi due coltelli probabilmente secondo la polizia sono state le armi del delitto il primo è stato ritrovato nello zaino che Sancho aveva dimenticato in hotel questo coltello non presenta questo coltello non presenta tracce biologiche cioè nella ricevuta del giorno prima appunto c'era scritto che Sancho aveva comprato questi due coltelli quindi la polizia li ha ricollegati ai due coltelli trovati sulla scena del crimine e nei dintorni il primo in questa borsa non presenta tracce biologiche quindi a livello di prove è stato escluso come arma del delitto ma abbiamo un secondo coltello il secondo coltello è stato trovato dentro la camera quindi dove è avvenuto il presunto omicidio e comunque è avvenuto lo smembramento ed effettivamente questo coltello presenta tracce biologiche sia di Daniel che di Edwin ma diciamo a processo non si è stato in grado di ricollegare questo coltello a quello comprato il giorno prima da Daniel quindi non si è riusciti a capire ok questo è il coltello che si trova in questa ricevuta comprata da Daniel eccetera eccetera il giorno prima no quindi in realtà questo non smentisce del tutto la teoria della polizia thailandese quindi della linea accusatoria del processo ma non la conferma neanche perché sì che quel coltello è probabilmente l'arma utilizzata per lo smembramento del corpo ma se non si ricollega all'acquisto del giorno prima non si può provare la premeditazione perché la polizia thailandese dice questo ha comprato le armi il giorno prima è premeditato ma se tu non riesci a ricollegare l'arma del delitto a quello che ha comprato il ragazzo il giorno prima non puoi provare la premeditazione quindi questa cosa è rimasta un po' in bilico da come dice la giornalista poi c'è anche l'autopsia perché la giornalista dice che appunto secondo la polizia la linea accusatoria Arrieta è morto sgotato nel momento in cui daniel ha iniziato a farlo a pezzi sono state fatte quattro autopsie dice la giornalista sulle parti sulle varie parti del corpo trovate del chirurgo l'analisi del cranio di Arrieta ha fatto emergere che le sue lesioni sono compatibili con la collottazione una lotta l'abbiamo detto anche prima questo dimostra che la lotta effettivamente ci sia stata e da una parte avvalora la tesi della difesa del fatto dell'appunto dell'omicidio colposo per autodifesa ma le autopsie non hanno potuto confermare o smentire la tesi della polizia secondo la quale Arrieta sarebbe morto sgotato perché queste quattro autopsie non sono state in grado di dimostrare che effettivamente Arrieta fosse ancora vivo nel momento in cui daniel lo stava facendo a pezzi quindi anche qui non si conferma un lato ma non si smentisce neanche l'altro inoltre appunto questa giornalista parla del fatto che la difesa stia facendo pressioni sul fatto che all'inizio daniel aveva daniel aveva confermato anche di averlo ucciso oltre che fatto a pezzi e poi si è rimangiato tutto una volta lucido e la difesa dice perché la polizia lo ha interrogato per ore quindi lui a un certo punto ha ceduto ma in realtà non era quello che voleva dire questo effettivamente abbiamo visto succedere molte volte quindi tra tutte le cose forse questa è anche quella più probabile perché succede nel momento in cui sei ore e ore sotto interrogatorio che magari pur di uscire il cervello a un certo punto ti dice di quello che vogliono sentire però rimane sempre il dubbio dell'episodio dissociativo che quello lascia il dubbio in quella che appunto è la narrazione spagnola bene ragazzi questo è il diciamo il caso a grandi linee di il caso di quello che in spagna viene chiamato il caso sancio ora aspettiamo la fine del processo quindi vediamo come va a finire io cerco di reperire tutto quello che è uscito a processo perché a porte chiuse quindi è stato molto difficile reperire informazioni inoltre HBO anche nel documentario dice abbiamo fatto uscire la puntata zero ma appena finisce il processo facciamo uscire le altre quindi sicuramente loro ci racconteranno più dettagli avranno sicuramente indagato anche sul rapporto tra Daniel e Edwin che è rimasto anche un po' nell'ombra è stato anche se pur tragico è stato bello tornare con un processo e sarà bello riaffrontare un processo che sapete che io amo i processi e mi piacciono un sacco ultimamente li avevamo un po' messi da parte bene spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo dopo domani per un altro video quindi vi auguro un buon martedì ciao ciao